ciao a tutti da scaldi j e t5 eccola qua la fontanella mosi da asciugare ci ho messo i fiori l'acqua esce qui devo solo rifinire il muretto qui qui c'è il teschio fatto con le palline poi devo far finirlo un po qui sotto devo chiudere c'è devo finire questo vaso in un modo che non si vede la colla ma ci mettiamo delle foglie foglie finte qua oppure qualcosa vediamo mi invendo in dado farò un altro no non fa cadere tutto che mi servono le pietre sta pure la mia ragazza le donne fanno solo guai quando io sto da solo che faccio queste cose non succede niente non è vero come non è vero allora sono cadute solo le pietre sono le pietre sono cadute a me quelle mi servono allora ma passami l'altro dolietta perché l'hai buttata lì non la buttate che cosa il vaso dammelo ah no quell'altro allora questo che sono le crisi muo vengo eh sì niente che cazzo sta qua per terra allora sono ingrassato un pochino questo vaso qua l'ho già mezzo incollato però dobbiamo rifinire tutto salve salve sì